Buongiorno ragazzi, comincio questo vlog con il telefono perché ho un problema con la memory, ultimamente me ne succedono di tutti i colori, comunque oggi battezzeremo Maria Sole e io sono già sistemata, non per merito mio, di sottofondo c'è Alessandro che sta facendo un casino, ma il merito è tutto suo. Sabrina, che mi ha truccato diverse volte, ormai ci conosciamo da un anno e mezzo. Stelgo lei perché vedete questi sono i risultati. Eh come è tornato, sono pure questi i risultati, ma che c'entri tu? Chi ha più bello di me se trucca, tutto a sto, sì vabbè ma tanto si sa, gli uomini basta che si fanno una doccia, si restano al volo e via. Comunque vi lascio qui in descrizione il tag della sua pagina perché veramente lei è bravissima, il top del top, qui c'è Maria Sole che fa il balletto, pure se volete diventare così è sempre il trucco macchino, questo è un altro truccatore, le unghie ho fatto tutto. Comunque a parte gli scherzi voi non potete capire il panico che c'era e che continua ad esserci perché guardate la situazione. Tutto sotto controllo. Per truccarmi proprio le imprese e la pazienza di Sabrina perché Maria Sole ha mangiato tipo tre volte. In un'ora e mezza. Sì e vuole mangiare di nuovo. E niente quindi io direi di non perdermi i chiacchiere perché è tardissimo, voi non potete capire quanto è tardi perché devo sistemare, devo sistemare al volo loro perché sta arrivando Giulia per fare le foto. Poi devo anche trovare il mio fratello per chiedergli la memory perché vorrei riprendere con le camere altrimenti farò il vlog con il telefono. Meglio di niente insomma. Aiutata dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Abbiate cura che la vostra bambina illuminata da Cristo viva sempre come figlia della luce e perseverando nella fede vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Ecco qui il tema che ho scelto, Alice nel paese delle meraviglie, questo è il tavolo del cappellaio matto. Guardate che figata, io come sempre mi affido a Monica Art perché guardate che meraviglia. Ora vi faccio vedere tutto quanto nel dettaglio. Grazie a tutti. Il tuo outfit. Mi piace? Mi sto sposando per la seconda volta. Vero? Cioè ho ancora un po' di... No ti sta benissimo. E buonasera. Ma lei non era vestita in un certo modo? La super diva, la cosa. Che bello. Allora io che cosa ho fatto? Sono andato su prima per cambiare Alessandro, per metterlo più in comodo e mi ero preso dei vestiti per me per mettermi comodo. Ma è salita lei di punto in bianco, me la sono trovata dietro. Che stai facendo Cristian? Comunque non so come sta andando questo vlog, un po' così. Però vi piace l'allestimento tema Alice nel Paese delle Meraviglie. Beh vi saluto. Abbiamo un riprodotto in tavolo del cappellaio matto. Poi vabbè le bomboniere che ve lo dico a fare. Non mi hai fatto neanche un sentimento. Sei veramente bello. Ma questo è forzato però. Senti facciamo la tua sala. Allora. Quale facciamo? Sei la più bella del mondo, quello che faccio. Ma la canti te però? Ma io non sono entrata però. Come no? Ma aiuta tua sorella. No no, la canti tu. Che cosa ne pensate? Dovremo cantare una canzone insieme? Insieme, no insieme. Facciamo la donazione insieme. Dopo questa esibizione canora, come siamo andati? Sì bene. Io godo la fama di voi. Ci godiamo questo secondo, dai. Tutto per me? Che cosa state combinando? Noi nulla. Opla. Non arrivano i cuginietti, papà deve uscire. Tirano, c'è pensi tu ad Alessandro, vai. Doveva piovere, c'è un sole che spacca le pietre. Giornata impegnativa ma molto, molto bella. Quando i bimbi sono felici, sono felice pure io. Sembra una giornata d'agosto. Sì. Poi abbiamo cantato le domeniche d'agosto, quindi. L'ha detto allo zucchero filato. C'è due uomini. Vai qua, c'è giusto. Bravo, bravo, bravo. Il primo zucchero filato di Cristian. Chi te l'ha fatto, papà? Ora arriva tu a Tirano, vieni, Tirano, vieni, Tirano. Due facce praticamente distrutte. Io mi sono fatta così una coda perché oggi faceva un caldo pazzesco. Comunque è stata una bellissima giornata. Alessandro si è divertito tantissimo. Questo vlog è un po' un casino perché praticamente l'ho registrato un po' con la telecamera, un po' con il telefono, però vabbè. Un po' con il telefono di un'altra amica tua che sta a fare le riprese. Vabbè, comunque nonostante la qualità del video vi abbiamo comunque reso partecipi e spero quindi che questa cosa vi faccia piacere. Noi adesso vi salutiamo perché non vediamo l'ora di farci una doccia, di metterci a letto perché siamo stanchi morti. Maria Sole è crollata, adesso manca soltanto Alessandro già addocciato. Quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Un po' di torta ce la siamo portata a casa. Sì, che poi tra l'altro non so il perché, quando organizzo un evento io non mangio mai. Io mi sono distrutto, ho pure il bis qui a casa. Davvero? Sì, la torta, ho un po' di carne, vabbè la carne è legata. E invece agli eventi degli altri mi mangio nome e cognome. Comunque adesso vi saluto e niente, ciao ciao!